Amici di Teledeon, bentrovati a questo nuovo appuntamento con speciale interviste. Siamo alla fine dell'anno ed è il momento in cui tutti vanno alla ricerca, anche a volte frenetica, del regalo giusto da proporre in vista del Natale. Noi abbiamo un suggerimento, questa volta vogliamo proporvi sì dei regali, ma dei regali utili, in particolare il libro, che consente di scoprire mondi diversi, di conoscere luoghi e persone che vivono abitualmente in altri contesti. Abbiamo la possibilità attraverso il libro di nutrire la nostra fantasia, nutrire la mente e quindi sono sicuramente dei regali utilissimi. Con questo non vogliamo dire che altri regali non siano all'altezza, ma il libro probabilmente in questo momento è utilissimo anche per staccarsi, come spesso accade dai nostri cellulari, dai nostri palmari. E allora per questo abbiamo invitato tre graditissimi ospiti che passo subito a presentare, salutare e ringraziare e sono Gianni De Iulis, docente e autore del libro Virtual Ergo Sum, è un po' il cogito Ergo Sum che ci fa capire che lei insegna la filosofia. Anche questo è giusto. Al centro abbiamo Tommy Di Bari, psicologo, autore del libro Preferisco le stelle. Grazie per essere con noi. Saluto e ringrazio Antonio Gelormini, giornalista, autore del libro L'ultimo che presenta e Visavi. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Dicevamo quindi che questa idea è quella di lanciare un modo diverso per fare un regalo di Natale. Per quale motivo il libro è ancora utile? Stessa domanda per tutti e tre i nostri amici. Comincio io? Sì. Prego. Grazie per l'invito. Il libro è utile proprio per quello che dicevi, che io condivido a pieno, cioè il libro ti trasporta in un'altra realtà. Mi capita spesso nei momenti diciamo un po' più intensi della giornata o in genere della vita di far riferimento a un romanzo, di far riferimento a un libro. Cioè il libro rappresenta una maniera per andare al di là di una realtà, di una quotidianità che talvolta ci annoia. Ecco il libro è proprio quello, è quello cioè di navigare, quello cioè di immergersi in universi lontani, ma anche quello di accettare il punto di vista dell'altro e quindi anche una valenza civica, oltre che una valenza culturale. E io lo consiglio, sarebbe un ottimo regalo economico, ma molto, ma molto pregnante. Ecco il problema è convincere i ragazzi, perché le persone della mia età ancora continuano a leggere i libri, magari non con la frequenza che vorrebbero, perché siamo tutti presi da tantissimi altri impegni e poi abbiamo stimoli continui dai appunto dai telefonini alla televisione, alla radio, ma il libro fa ancora parte della mia vita, fa parte della vita della mia generazione, ma i giovani come fare a convincerli a leggere i libri? Sì, è indubbiamente più difficile, più difficile, anche se io non la metterei mai da un punto di vista generazionale, piuttosto proprio da un punto di vista anagrafico, proprio quando si è giovani, neanche noi da giovani, non è che fossimo grandi lettori di libri, almeno fino a una certa età, a parte i libri scolastici. Quindi più che un fatto generazionale, un fatto anagrafico, però io ti dico, ti faccio un piccolo, ho tre piccoli nipoti, ai quali da un po' di tempo a questa parte, ogni Natale io regalo dei libri. Non ho mai avuto il coraggio di chiedere se sono veramente contenti di questo regalo. Non si, io, quando ti vedono. Insisto, è arrivato l'uomo dei libri. Insisto in maniera, per la verità chiedo alle loro mamme, che poi sono le mie sorelle, che libri posso regalare? Loro dopo un po' di tempo, devo dire, mi segnalano qualche titolo, io sistematicamente gli regalo, però ripeto, non ho mai approfondito. Tommy Di Bari, perché un libro? Perché un libro? Credo che le tre motivazioni siano queste. La prima è perché ti consente di fare un volo low cost, stando fermo nel posto in cui sei. Perciò arrivi davvero in ogni latitudine, utilizzando, come dicevi tu prima bene, a microfoni spenti, la fantasia. In secondo luogo perché se la matematica ci insegna ad andare da A a B, la fantasia ci permette di arrivare dappertutto. Un libro è materiale fantastico, qualunque sia la storia. In terzo luogo perché, è un oggetto corporeo, a differenza del libro, dell'ebook che è incorporeo. Gli oggetti corporei creano delle relazioni di contatto, quindi attivano dopamina, serotonina e ci consentono di sapere che noi siamo qui in questo momento. Questa credo che sia la bellezza più grande. Ecco, ho utilizzato anche il termine corporeo del libro. Noi siamo abituati a prenderlo tra le mani, a sentirne l'odore subito dopo la pubblicazione, che è un droga per noi. Sì, è qualcosa di straordinario per noi, come dicevi tu, probabilmente questo aspetto per i ragazzi potrebbe essere oggi meno affascinante, meno attrattivo. Era Umberto Eco che ricordava non leggendo ho vissuto la mia vita, leggendo ne ho vissute tantissime e credo che ognuno di noi, sin da ragazzo, ha vissuto la vita di Robin Hood, di Ivanhoe o di altri leggendo. E in questo io credo che vada salvaguardato e recuperato il rapporto con il cartaceo in senso stretto. Perché in un'epoca tutta di immagine, tutta di video, il ruolo della scuola diventa importante. Perché la lettura, in qualche maniera, abitua allo sforzo, abitua alla riflessione, abitua a un tipo di esercizio che probabilmente il rischio è che si possa perdere adagiandosi alla cultura dell'immagine, alla cultura della fotografia o del video e non abituandoci più a sforzarci. La scuola dovrebbe salvaguardare la lettura ad alta voce e la lettura ad alta voce non puoi che farla con un libro. Che sia un ebook o che sia cartaceo, però con un libro. Tutti gli altri prodotti non vanno demonizzati, ma sono successivi. Il libro è propedeutico e a questo dovremmo tenerci. Lei è docente. La scuola fa anche questo? Sì, la scuola fa. Si leggono dei libri istituzionali. Per esempio Promessi sposi rappresenta la commedia di Dante. Comunque si leggono in classe. E poi ci sono molti docenti particolarmente sensibili che indicano dei libri durante per esempio le festività natalizie oppure durante le vacanze estive. E poi ci sono una serie di iniziative, addirittura ministeriali, tipo per esempio Io leggo perché, che rappresentano comunque una maniera proprio per avvicinare i giovani al mondo del libro, dell'universo libro. Perché in verità i giovani hanno già una piccola, creano già una sintesi fra l'immagine e la scrittura. Perché molti ancora leggono i fumetti. Il fumetto rappresenta un po', se vogliamo, questa sintesi. Io ho imparato la rivoluzione francese, la guerra di secessione, con Topolino. Topolino aveva questa grande capacità di creare un universo parallelo ambientato nel mondo animale, o dei paperi o dei topi. Tuttavia, ecco, i ragazzi giungono a questa sintesi attraverso il fumetto. Da parte nostra c'è la volontà, c'è la forza, c'è la voglia di avvicinarli sempre di più al mondo della carta, proprio dei libri. Io avevo un professore che il lunedì mattina faceva una, un professore che si chiama Giuseppe Geminario, mi consenta di salutarlo perché il quale ogni lunedì mattina faceva acquistare a tutti quanti un giornale, un quotidiano e lo leggevamo, la stessa notizia dai vari punti di vista. È stata un'esperienza veramente molto interessante. Ecco, oggi, diciamo, il quotidiano forse è veramente passato, però il libro ha ancora un suo fascino, ha ancora una sua attualità. Ecco, prima di arrivare al suo libro, lei ha anche, le do di lei, anche se è quasi innaturale visto che ci conosciamo da bambini, ma lei si occupa di un caffè filosofico. Ecco, attraverso proprio l'analisi di libri, se non ho capito male. Ci parla di questa esperienza. È un'esperienza molto interessante, veramente, è un format particolare che si ispira in qualche maniera ai caffè filoso della Parigi del Settecento, della Parigi luministica, leggermente rivisto, adattato, diciamo, al ventunesimo secolo. E tuttavia ha molto successo, soprattutto con i giovani, perché affollano i giovani, in genere andiamo in un bar oppure in una libreria che ha degli spazi o in qualche sede di associazioni culturali e affrontiamo un tema, quindi per esempio la libertà, per esempio l'eternità, l'amore, la comunicazione. Affrontiamo un tema, questo tema partiamo da una tesi, che è alla base di questo tema, e poi lo sviluppiamo facendo riferimento ai diversi linguaggi espressivi, quindi alla musica, al cinema e anche ai libri, in particolare i libri. Ecco, questo è un po' il format che piace molto perché riesce a spaziare fra tutte le varie espressioni, diciamo, spirituali e culturali dell'umano. Veniamo al suo libro, l'ultimo, appena uscito nei giorni scorsi. Di che cosa parla? Sì, il libro Virtual Ergo Sum, evidentemente, non so se si vede, mi piace fare vedere la copertina, eccola qua, fare vedere la copertina perché la copertina fa riferimento all'autoritratto di Van Gogh con i visori della realtà virtuale, una copertina che io ho pensato ma non ho realizzato io, tecnicamente, ma ha realizzato mio alunno, che ci tengo particolarmente a salutare, Matteo Copolecchio, il quale è stato veramente molto molto bravo, l'ha realizzata, poi io ho detto avrei questa idea e lui subito me l'ha portato. E questo è praticamente un crossover rispetto a quello che dicevamo prima, il libro che guarda la realtà aumentata, la realtà virtuale, ecco, da che punto di vista l'ha analizzata? Sì, l'ho vista da un punto di vista non tanto del parrossismo tecnologico che ci sta salendo in questi tempi, proprio da un punto di vista culturale. La tesi è questa, che la storia dell'umano è una storia, è una continua ricerca del virtuale, cioè quella del virtuale è vero che oggi c'è un hype sul mercato che sta andando in quella direzione, ma è pur vero che se c'è una richiesta è perché c'è una continua ricerca da parte dell'uomo di una realtà altra, diversa, appunto virtuale. D'altronde l'espressione realtà virtuale è estremamente ossimorica, da una parte realtà ciò che è, dall'altra parte virtuale ciò che non è, ciò che è in potenza. E quindi mutuando l'espressione cartesiana, cogito, ergo sum, nasce questo libro che fa riferimento a un tema che ha sempre interessato l'umano, sì dai primi momenti in cui è apparso sulla terra, ed è il tema dell'escapismo, che è un tema che a me piace tantissimo, un'espressione che deriva dal mondo anglosassone, questo termine, to escape, che a sua volta deriva dal latino ex cappare, ex cappare, dove ex cappare significa togliersi il mantello per correre più veloce, la cappa, no? Quindi cos'è l'escapismo? È una tendenza da parte dell'umano di cercare realtà altre, diverse. L'uomo non è contento dell'esistenza, questa è un po' la mia tesi, siamo imprigionati dalle categorie dello spazio e del tempo. Se ci riflettete un attimo, ogni invenzione dell'umano è un'invenzione tesa a superare lo spazio e il tempo, la ruota, la stampa, la polvere da sparo, il telefono, le automobili, ecco, ogni nostra invenzione va in quella direzione, cioè superare la nostra condizione di umano. E all'interno del libro io parlo per esempio di religione, che è una maniera per ordinare reale in maniera sacra, parlo del mito, faccio riferimento a Icaro, al mito di Icaro, che significa volare, andare al di là. Parlo dell'arca di Noè, che il diluvio rappresenta il labirinto, che rappresenta l'umano, la vita in cui noi ci troviamo, che ci ingabbia. Ecco, qual è il suo rapporto con le nuove tecnologie? Io ho un rapporto abbastanza ecologico, come si dice oggi, nel senso che non sono contrario assolutamente, perché mi viene un po' da ridere quando uno scrive su Facebook e dice sono contrario a Facebook, dice odio i social scrivendo sui social, e questa è una cosa molto simpatica, a proposito di ossimori, a proposito di contraddizioni, no, io utilizzo i social in maniera abbastanza normale, nel senso non ho ancora, diciamo così, l'addiction, come dicono nel mondo anglosassi, non c'era certamente nessuna dipendenza, l'utilizzo se devo fare delle comunicazioni, se devo cercare degli amici, a dir il vero ho comprato uno smartphone ad agosto di quest'anno, fino a qualche tempo fa avevo il famoso Nokia, però utilizzavo... Esatto, da poco prendo lo smartphone, mia moglie mi riprova, perché adesso sto sempre su Whatsapp, ho scoperto Whatsapp, che è una grande invenzione. Cosa invece preferisco le stelle? Preferisco le stelle è, potremmo dire, un romanzo di formazione, anche se in realtà è il mio sesto libro, però mi piace restare sempre a quella parte acerba, un po' provinciale dell'anima, che è ancora l'età evolutiva, cioè dell'adolescenza. Io mi occupo prevalentemente di giovani ragazzi adolescenti con fragilità e questo romanzo ha a che fare... Nella sua vita privata, ricordiamo che lei è psicologo, quindi si occupa di questo. Però è bello mutuare questi aspetti all'interno di storie romanzate, che partono probabilmente da quel principio, ma che poi devono essere, come giusto che sia, anche intrecciate di fantasia. È la storia di Michele Lovero, un nome assolutamente meridionale, un ragazzo come tutti gli altri, che è laureato in lettere e filosofia e che sogna di fare l'insegnante, solo che in attesa del bando di concorso... Quindi in realtà si doveva chiamare Gianni De Julis. Anche, 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 con il quale sono molto d'accordo, soprattutto quando parla di caffè filosofico, non dimenticando che la psicologia nasce dalla filosofia. Per cui questo persoraggio pugliese, meridionale, sogna appunto di fare l'insegnante, cioè di rispondere alla sua vocazione. Purtroppo, però, il bando di concorso non arriva, perché il Ministero dell'Istruzione continua a rimandare e fa quello più o meno prof che fanno tutti i ragazzi meridionali, prova a cercare il posto fisso, la garanzia e la sicurezza dicendo a se stesso, poi magari la vocazione la seguirò perché avrò, appena potrò. E lo fa e lo supera anche brillantemente il concorso, diventa poliziotto, ma lo sbattono, indovina dove? Lì accade una cosa che è un po' una sorta di deflagrazione, o quello che a me piace chiamare il colpo di scena, quando insegno scrittura creativa e terapeutica con i miei ragazzi, e cioè durante la notte giunge una telefonata di una bimba di otto anni che chiede alla polizia di indagare e di ricercare sua madre. La bambina ha perso la mamma durante un incidente automobilistico e il padre, per cercare di tamponare questo dolore zampellante, le ha detto che è semplicemente volata in cielo. Siccome i bambini hanno, Francesco, un pensiero divergente, sono molto più liberi di noi, lei ci crede e quindi di notte chiama la polizia e chiede a questo poliziotto, caso strano, ma neanche tanto Michele Lovero, di far scendere la mamma dall'aldilà. Lì a quel punto Lovero che... Non ci sveli il finale per cosa sia... No, 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 quello no, però c'è un passaggio centrale che ha a che fare con la capacità della risonanza emotiva che noi tutti dobbiamo sviluppare. Parliamo tanto di empatia, ma l'empatia è essa per far breccia nel cuore dell'altro. Lui ha due scenari di fronte a sé. Uno, quello di razionalizzare e prendere distanze un po' da questa telefonata. L'altro è quello di sentire, non capire, sentire che c'è un bisogno di accudimento e quindi di dire alla bambina che indagheremo attraverso le nuvole e sceglie naturalmente la seconda ipotesi. A chi è rivolto questo libro? Ai pellegrini, ai sognatori, ai ragazzi che sanno vivere sospesi e non appesi e a tutti coloro i quali posseggono la virtù più bella dell'intelligenza, cioè la curiosità, e che sanno così sventolare la vita. Ecco, la curiosità c'è ancora, perché ormai noi appunto vediamo i ragazzi che cercano di soddisfare ogni propria curiosità attraverso i device, i palmari, gli smartphone, qualunque domanda vanno su Google o su altri browser. Sì, questo è vero, però è una ricerca di risposte rispetto all'informazione. La curiosità è uno stimolo diverso ed è un processo educativo che deve avere delle figure di riferimento in grado di attivarlo. Si parla tanto in questo momento di impulsi rispetto ai grandi fatti di cronaca. La cosa che dovremmo fare nelle scuole è insegnare più che l'educazione sessuale, l'educazione sentimentale, perché se io imparo a costruire un punto di passaggio tra l'impulso, l'emozione e i sentimenti, saprò fare la differenza tra corteggiare una donna e stuprarla. Certamente, anche se mi spaventa l'idea che persone impreparate arrivino a fare da insegnanti. Questo è verissimo. Perché il vero problema è quando si parla dell'insegnamento dell'affettività e che bisognerebbe avere degli specialisti su questo e non un semplice professore di italiano piuttosto che di matematica, insomma, a insegnare. Però anche i professori, siccome fanno un lavoro molto delicato e devono formare generazioni per 30 anni, come dice il professor Galimberti provocatariamente, dovrebbero essere sottoposti a test di personalità per valutare se posseggono l'empatia. Perché noi dobbiamo trasmettere l'eros ai nostri ragazzi quando insegniamo. Magari ce ne fossero di professori così. Invece il suo libro Vis-a-V, anche questo è recentissimo, un annetto al massimo, di che parla? Lo dico subito, però vorrei approfittare perché gli assist lanciati vanno, io giocavo a basket, quindi vanno in qualche maniera scoltati, colti e portati a segno. La mia passione, voi avete sviluppato un filo di ragionamento che alla base ci ricollega da dove siamo partiti, all'oggetto, il libro. La formazione, le radici, le basi sono custodite in quella abitudine e in quella ricerca che sviluppa esattamente la lettura. E quindi anche la formazione di nuovi docenti, perché visto in prospettiva, quel segmento che dovrebbe valutare i nuovi decenni, i nuovi docenti, rischia di essere a sua volta qualcosa di nuovo e qualcosa che non ha basi nel tipo di rapporto. Ecco perché va salvaguardato un elemento come il libro. Tra le varie iniziative, io ho una rassegna che si chiama Arabiche, Arabeschi e Bellezze Moresche, mi ricollego al Caffè Filosofico, che ha come tradunione della proposta di letture, quindi dei libri, l'intrattenimento e saperne di più sui caffè. lancio una proposta, un'idea, magari un appiglio per far nascere, in questo momento mi sfugge il nome, ma è un autore, un nostro collega giapponese, che a suo tempo ha lanciato questa sorta di... nasce come un gioco, poi diventa invece un gioco letterario, quello di raccontare, narrare, inventandole o montandole al momento, piccole storie nell'arco di un caffè. Il tempo di prendere un caffè, quello è il tempo che hai a disposizione per mettere fuori, che credo sia uno di quegli esercizi per la capacità di sintesi, per sviluppare una sorta di creatività al momento che andrebbe la lancio, magari è un modo come un altro per ritrovarsi... Si chiama Kawagushi. Kawagushi, finché il caffè è caldo. Ne ha scritti diversi, però è cominciato con questa... Molto bello, l'ho letto qualche tempo fa. Che è una bellissima iniziativa. Vis-a-vis. Vis-a-vis è un... io ho cercato di recuperare un po' di cose che avevo scritto negli anni a proposito di personaggi che la mia carriera professionale mi ha dato la possibilità, la chance, l'opportunità di incontrare tutti i personaggi noti e quel momento vissuto col personaggio noto, credo, ho ritenuto che andasse raccontato e condiviso e ricondiviso in qualche situazione... Una sorta di retroscena. Con i lettori. Una sorta di retroscena quello che avveniva realmente. Sì, no, ho incrociato queste persone e il modo in cui o quello che è accaduto quando li ho incontrati valeva la pena raccontarli che poi è diventato l'appiglio per raccontare il contesto o un momento storico o alcuni riferimenti. i personaggi sono 40, 32 realmente incrociati, incontrati, 8, 6 più 2, era un po' più difficile per questioni storiche, Giuseppe De Nittis o Antonio Salandra o Giuseppe Di Vittorio o addirittura come dicevo prima Di Omede, personaggio immaginario di Omero, erano incontri impossibili. Difficilmente realizzati. Altri due potevano succedere ma non è successo, Barack Obama e Oriana Fallaci, però di tutti e 8 avevo scritto e ho scritto talmente tanto che è come se li avessi incontrati. Gli altri 32 spaziano da Aldo Moro a Sergio Marchionne, da Irene Papas a Jacques Seguelat, Papa Francesco o Benedetto XVI precedentemente. momenti che valeva la pena raccontare. A chi è diretto secondo lei questo libro? A chi è diretto? È diretto a chi in qualche maniera vuole fare quello che diceva prima Tommy di Bari, una sorta di viaggio stando in poltrona attraverso, in questo caso, attraverso i personaggi che a loro volta rimandano. Questa è la bellezza del libro che ti spinge, che ti accompagna, che ti stimola a esercitare altri segmenti, altre sezioni del cervello e quindi della riflessione. attraverso i personaggi e il racconto di quel personaggio spazi, viaggi nel tempo, nello spazio e ti confronti con quelle vite non vissute di cui prima accennavamo a proposito di Umberto Eco. Che numero di libro è questo? Per me? Questo è il terzo. È il terzo. Ed è riuscito a trasmettere la passione per la scrittura anche a sua figlia. Sì, questa era... Infatti diciamo che è come se fossimo in quattro gli ospiti di oggi, perché c'è sua figlia che ha scritto un bellissimo libro, Toccante. Allora, mia figlia ha scritto Ancora di salvezza. Io non lo so se è stata contaminata dalla passione personale. Ancora di salvezza però è una sorta di rivivere momenti che hanno toccato lei. Mia figlia è stata operata per problemi oncologici quando aveva quattro anni, poi a cinque anni è stata rioperata, poi ha affrontato a suo tempo nel decorso tutto quello che è la chemio, la radio e ha deciso a un certo punto, a 20-21 anni, di raccontare questo percorso non in una sorta di spettacolarizzazione del dolore, ma per lanciare un messaggio a chi vive lo stesso calvario, diciamo, avendo la possibilità di poterlo raccontare, che lo si può affrontare. Che nonostante i vari problemi vissuti anche a scuola, dal bullismo all'emarginazione, perché comunque diventi un soggetto diverso, che si può affrontare e si può. È un messaggio, noi abbiamo iniziato un percorso tra le sbarre, nel senso portando il libro, o ai ragazzi che sono ricoverati in ospedale, quindi sono dietro le sbarre di un letto, oppure quelli che sono nei penitenziari, i ragazzi che sono nei penitenziari, dove la luce della speranza, in qualche maniera, e se non altro, aiuta, e se non altro per poter avere il, diciamo da noi in dialetto, il priscio, di poter dire a loro, tra le sbarre, nei penitenziari, di aver portato con il libro l'unico strumento di evasione che nessuno gli potrà mai sequestrare, che nessuno gli sequesterà mai. Allora, siamo arrivati in chiusura di questo spazio, il tempo, come avete visto, è volato, in compagnia dei nostri tre ospiti, speriamo di aver fatto scattare una scintilla di un regalo per il Natale diverso, un regalo che non si esaurisce nel giorno del Natale, ma che possa essere l'inizio di un percorso di arricchimento culturale, sociale e anche affettivo da parte di chi li utilizza. Ringrazio Gianni De Iulis, docente e autore del libro Virtual Ergo Sum, appunto il cogito Ergo Sum di cui abbiamo parlato. Tommy Di Bari, psicologo e autore del libro Preferisco le stelle, grazie per essere stato con noi. Antonio Gelormini, giornalista e autore del libro Vis a Vis, e anche sua figlia, ringraziamo, il nome di Battesimo e di sua figlia? Benedetta. 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 E allora, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento per tutti e nei prossimi giorni, sempre con speciale interviste. Grazie.